A Ornavasso si attende l'ultima festa d'estate, la festa del Boden, dove la religiosità ed il lato profano della tradizione si fondono da sempre. Si comincia giovedì 5 settembre. Maria, donna che apre i sentieri, questo è il filo rosso della manifestazione, che già prepara il cammino verso il 2008, quando si celebreranno i 500 anni del miracolo dal quale tutto ebbe inizio. Appuntamenti liturgici al santuario. Festa del Boden, in piazza Bianchetti a Ornavasso, tutte le sere cucina e cocktail bar, da giovedì a lunedì 9 settembre.